Buongiorno a tutti, intanto ringrazio il Selva per avermi invitato a questo importante appuntamento. Colgo l'occasione per portare i saluti della Giunta regionale che in questa giornata, e poi magari mi scuserete se a un certo punto vi lascerò, in questa giornata dovrà completare il bilancio di previsione per il prossimo triennio. Quindi, visto che ci sono tanti sindaci e tanti amministratori presenti, sapete quanto è importante questo momento. La casa in Valle d'Aostra tra innovazione e storia. Quindi una importante giornata di riflessione, una giornata nella quale sono certo, viste le energie che si sono schierate quest'oggi, arriveranno suggestioni, riflessioni e sicuramente molte idee che guarderanno al futuro. Credo che la nostra regione abbia dato, in questi anni, soprattutto in molti comuni di montagna, prova importante di interventi coerenti, interventi coerenti con l'ambiente di montagna, interventi che si fanno guardare dove la pratica del riutilizzo dei materiali, la pietra, il legno, sono state adottate, direi, in modo abbastanza ineccepibile. Un po' diversa è la situazione al Comune di Aostra, dove quell'edilizia degli anni 60 e 70, purtroppo, è ancora molto presente. Guardo il mio collega Tunzelle, che rappresenta la Giunta Comunale, e per il quale però si stanno facendo dei passi da giganti per andare a cambiare, a dare quello changement alla città che è tanto auspicato. Si stanno facendo interventi di abbattimento e ricostruzione. Recentemente si è completato il contratto di quartiere 1, si è completato il quarto lotto al quartiere Cogno, che prevederà l'abbattimento del Grattacielo Alto. C'è una ipotesi importante di abbattimento delle gazzera e delle fresia basse, che determineranno un percorso per la realizzazione del quinto lotto, dove anche lì qualche idea importante si potrebbe dare, per collocare in quel contesto qualcosa di innovativo, che non è sempre il solito palazzone che cresce a 12 piani. Cosa fa la Regione, raccolgo un po' la suggestione del Presidente Manes, cosa fa la Regione nel frattempo per dare risposte a questo comparto, che è sicuramente un comparto che negli ultimi anni ha vissuto momenti complicati e difficili? Beh, diciamo che alcuni provvedimenti legislativi, alcune norme, hanno dato un po' di fiato. La recente delibera che ha approvato i mutui per la prima casa a 180 mila euro, i mutui per interventi di recupero edilizio fino a 300 mila euro, è sicuramente un intervento significativo. Nel primo mese sono oltre 100 le domande che sono pervenute ai nostri uffici. Io credo che si stia lavorando in molti settori, ma l'appuntamento più importante è in itinere, che è quel decreto legislativo che andrà a modificare la legge 11 del 98 e la legge 12 del 2009. Due leggi che avevano bisogno di interventi importanti. Avete già ricevuto come ordini le suggestioni rispetto a questi provvedimenti, è aperto il dibattito e più che mai questo confronto tra amministrazione, ordini e celva, consorzio permanente degli enti locali, sarà un dibattito aperto e approfondito per dare le migliori risposte al vostro settore. Non vi tedio più di tanto, vi auguro buon lavoro, buona giornata e grazie ancora per avermi invitato. Grazie. Grazie.